Buongiorno ragazzoli e ragazzole! Ciao! Allora, finalmente abbiamo trovato le parole per fare questa recensione Il coraggio E il coraggio soprattutto per farvi questa recensione dei Miserabili Le Miserable Si dirà così in francese tu l'hai fatto? Le Miserable Le Miserable Che siamo andati a vedere ieri sera Tra l'altro era pieno bombato il cinema, noi non ci credevamo Pensavamo che nessuno fregasse tre ore di gente che canta E invece no, c'erano anche le ocche giulive davanti Perché ovviamente se noi andiamo al cinema e becchiamo le tre ocche Ragazzine, fateci capire perché siete andati a vedere i Miserabili Se dovevate ridacchiare tutta la prima parte del film Chi vi piaceva? Chi era l'attore figo che dovevate vedere? Perché quei due che c'erano, che erano popabili Non sono tanto famosi Per cui, boh, non si sa Eppure c'erano Eppure sì, queste ragazzine c'erano per le scatole Inizieremo dalla storia Anche se in realtà È un po' famosa E credo di averla raccontata almeno 700 volte nell'ultimo periodo Andate a vedere il video Andate a vedere il video Andate a vedere il video Però dai, la ripassiamo insieme Allora, la storia inizia nel 1815 in Francia E c'è questo Jean Valjean Che è appunto il protagonista Che esce di prigione Con la condizionale però E il problema è che nessuno gli dà lavoro Non gli danno da dormire E l'unico rifugio che trova è in casa di questo vescovo A cui, per ringraziarlo, gli ruba l'argenteria E però il vescovo in realtà Non è che lo fa mettere in galera Anzi, gli perdono il furto Gli regala tutta l'argenteria E gli dice Guarda, io te la do Però tu sappi Che d'ora in poi dovrai fare del bene E lì Jean Valjean cambia completamente E conduce, diciamo, la sua vita Noi non andremo avanti a raccontarvi la trama Per evitare degli spoiler Sì, è difficile È un po' difficile Per cui abbiamo deciso di strutturare così il video Nella prima parte vi diciamo Le cose che ci sono piaciute E che non ci sono piaciute Anche se in realtà non ci sono La seconda parte del video Cioè ve lo diremo noi da quando Prendiamo le canzoni che ci sono piaciute di più E ve ne parliamo mano a mano Il problema è che parlandovi delle canzoni Chiaramente Vi raccontiamo Esatto, vi raccontiamo un po' di pezzi della trama E non so Cioè se voi conoscete la storia Potete anche vedervelo Se non la conoscete proprio di peso Allora forse è meglio evitare Cosa ci è piaciuto del film? Innanzitutto Vabbè Gli attori Tutti molto Bravi Bravi Anche come cantanti E sono bravi Per chi non lo sapesse Li hanno ripresi dal vivo Mentre cantavano Che nei musical in realtà Di solito Si va in studio di registrazione E si canta in playback Poi sopra Invece come Penso quasi tutti voi sappiate In questo musical La cosa non è stata fatta esattamente così Praticamente li riprendevano Mentre cantavano Questi poveretti avevano Un auricolare Scusate nell'orecchio Sentivano un tizio Che suonava al pianoporte Per dargli Diciamo gli accordi E poi loro ci Ci cantavano Che non credo sia molto semplice Senziamo avere un'orchestra dietro Però Tant'è Ha reso meglio Forse Questi sentimenti Che provano Per cui bravi Poi tenendo conto Che non tutti erano Dei cantanti di professione Anzi Sto pensando Chi è che l'ha fatto di professione Anathaway Anathaway no Non è una cantante Hugh Jackman si È un cantante di musical Russell Crowe faceva il cantante C'aveva il suo gruppettino Che si chiama I 30 Ruti qualcosa Per cui Voi potete capire Com'era diciamo La sua La sua levatura di cantante Non era esattamente Comunque quella Proprio Hugh Jackman C'è quell'attore Che ha un nome Impronunciato Cioè ha il cognome Che non so come si pronunci Che è quello che fa Il personaggio Che piace a me Che è Aaron Faith Che lui sì Lui fa il cantante Broadway Per cui sì Lui almeno Era di professione E anche quella Che faceva Poneen Che cantava Tra l'altro nel musical Dei Miserabili A Londra Per cui Lei è sempre Faceva Poneen Quindi quasi tutti Praticamente Quindi in realtà Quasi tutti erano cantanti Di professione Ci sono piaciuti Tranne la Sail Crew Che a me non mi è piaciuto tantissimo A me piace lui Però a me Eh ma sì Ma lui per carità Però a parte È un'altra cosa Non è molto espressivo Nel cantante È vero È quello Cioè forse si è dovuto Talmente tanto sforzare Di stare in accordo Che ha perso un po' La personalizzazione Forse della canzone Ecco Sì questo è vero E poi non mi piace tanto La sua voce Quando canta Ha una voce un po' strana Non mi fa impazzire No è vero Sì sì Una cosa bella Che ci è piaciuta Anche sono stati Questi primi piani Bellissimi Che ha fatto sugli attori Cioè tutte le volte Che cantavano Delle canzoni un po' Un momento clou Eh E c'era proprio I primi piani Sulle facce degli attori Che piangevano Che piangevano Loro piangevano Noi piangevamo Per cui Si piangevano Tutti insieme Che bello C'è stata anche Una ricerca del fazzoletto A un certo punto Noi che ci asciugavamo Delle cose che trovavamo in giro Sciarpe, sciarpine Maglioni, capelli Perché ovviamente C'è stato questo Piccolo problema Che abbiamo avuto Di acqua Che tanto sapevamo Di averci Che avremmo avuto Ma purtroppo Ci siamo dimenticati I fazzoletti Le traduzioni Le traduzioni Non ci sono piaciute Ecco Una cosa che non ci è piaciuta È stata la traduzione Perché c'erano i sottotitoli Perché c'erano i sottotitoli Eh Non l'abbiamo detto Però il film Che dura quasi tre ore È Praticamente tutto cantato Sottotitolato Sottotitolato In italiano Con la sottotitolatura Che fa un pelo cagare Possiamo dirlo Non è proprio fedele No Non è Per niente fedele A quello che effettivamente Stanno cantando Io adesso Non c'erano neanche problemi Di adattamento Di Come dire Di sync Labiale Per cui cosa vi costava Tradurre esattamente Quello che cantavano Cioè un Perché Mettavano i pezzi Ma spostavano i pezzi E poi traducevano Delle cose che non erano Effettivamente Il significato della canzone Adesso Non che io dovevo fare La linguista qua Però Ci arriva anche Chi non ha studiato lingue Non li leggevo Non perché sono più figa Degli altri Ma perché A parte che conoscevo E poi si capisce Se sapete l'inglese Si capisce Le canzoni sono semplici L'altra cosa che mi è piaciuta È Comunque li hanno azzeccato I ruoli Cioè tipo Quando ho letto Che c'era Hugh Jackman Che è al secolo Wolverine Doveva fare Javajan Ho detto Sembra un po' Un azzardo Questa cosa E invece Invece Cazzo è bravo È anche nata Un'altra Su cui non avrei Giù tantissimo È l'esta Da voi è brava È proprio brava Lei fa Fantin Che è un ruolo Che è Tragico Di più Credo Non lo so Ha scatenato Dei seri problemi Anche lei Di Rubinetti Ha rubato l'argenteria Quando ha capito Che finalmente Si può redimere No? Che è una canzone Che fondamentalmente Non è Cioè è normale Sì Cioè Di per sé La canzone Non è Granché Bella Cioè è più lui Che è appassionante Esatto Cioè come rende bene Questa cosa Questa cosa Che lui dice Basta devo cambiare Devo prendere un'altra vita E qua infatti Mi sono ricreduta Su Hugh Jackman Che faceva Javajan Sul tuo pezzo Però c'è stanca Esatto Vuoi dire Basta Non voglio più essere Javajan Basta Devo cambiare Solo che se rimango Javajan Chiaramente Nessuno mi darà La possibilità Di cambiare E lui canta Questa canzone Bellissima Cioè che diventa Bellissima per me Perché lui che la Interpolata Bellissima Esatto E ci è piaciuto Tantissimo E qua eravamo già Era già Iniziava il batticuore In questo momento Però Il vero crollo C'è stato Con la prossima canzone Che penso sia La più famosa Di tutto il musical Che canta Fantin Dopo la prima volta Che è costretta A prostituirsi Perché l'ha buttata Fuori dalla fabbrica E poverina Deve mantenere Sta figlia Presso questi Stronzi Che sono i tenardie E lo devo dire Scusate Mi scappa E Cioè È particolarissimo Perché c'è Questa inquadratura Sul suo viso Per tutta la durata Della canzone Cioè Inizia che lei Sta distesa No lì Sulla Esatto In questa specie di Ma sembra una barra Quasi Che infatti è un po' inquietante Sì è una specie di Scatolone Esatto E lei canta E poi canta questa canzone Bellissima Tradotta malissimo Però quello L'abbiamo già detto E Cioè è emozionata E lei ricorda L'amore Della sua vita Che l'ha messa incinta E l'ha abbandonata E la sua bambina E E lì Noi abbiamo È sfiduciata Verso Verso Il mondo Verso il mondo E cioè Incredibile Come ha reso bene la canzone Cioè Si inghiozzi compresi pure lei Più lei si inghiozzava Più si inghozzavo io Per cui No è come è riuscito a trasmetterlo Cioè nel senso Non è detto che un primo piano Aiuti comunque A rendere di più l'emozione Perché se uno poi non è capace A recitare Può riprenderlo anche qua Ma Non rende Qui passiamo alla prossima canzone No io non ce la faccio Perché se no mi sento male Ma anche una canzone bellissima Che non c'è Nella colonna sonora Perché non ve la possiamo far sentire Che è quella che canta Fantine Prima di morire Quando vede Cosette E che Canta insieme a Jean Van Jean Che deve rivedere Cosette Prima di morire E anche lì No è bella quella scena Perché lei è lì Con questa faccia un po' Tra la disperazione Alla speranza Perché vede Cosette Non vede Cosette E poi muore Anche perché lui Lele dice Che non ti preoccupare Insomma L'aiuterò io Esatto Quindi lei si tranquillizza Sì E muore E l'hanno un po' migliorata Rispetto al libro Perché non era esattamente così La morte di Fantine L'altra canzone È la canzone Che canta Cosette Che ci viene presentata Poco dopo Appunto che Jean Van Jean Riesce a scappare Perché praticamente Si è autodenunciato Via dicendo Riesce a scappare Per andare a salvare Cosette Cosette canta questa canzone Con la sua bambolina Sfigata Fatta di stracci Che c'è in mano Che non sembra neanche una bambolina No La carezza Lei parla di questo castello Su una nuvola In cui c'è una signora Che le dice che le vuole bene Ecco Quello è stato il momento E lì ho pensato Forse è lei che si ricorda Della sua mamma È per quello che mi sono sentita male Cioè che poi Io non ho capito una cosa Dimmi Lei non l'ha conosciuta Allora nel libro Lei era piccola E non si poteva ricordare Della sua madre Eh quindi diciamo Non l'ha conosciuta più Esatto E infatti L'ha proprio quasi neonata Quando Fantin l'abbandona Qua invece è un po' più grande Per cui forse se la ricorda Infatti nel libro Alla fine Jean Vanjean Gli dice che era sua madre Perché lei glielo chiede In ripetizione Nel romanzo Quando diventa grande E lui non glielo dice mai Per non dirle Guarda tua madre Faceva la prostituta Glielo dice però alla fine Con quella frase bellissima Che se volete poi vi dico Piovatti Una canzone che ci è piaciuta Perché ha un pochino Spezzato questi momenti Perché ovviamente Qui eravamo In una situazione Tragica È questa Che canta Sasha Baron Cohen Esatto Con Ella Bonham Carter Che fanno i due tenardie Che è una canzone Un po' più allegra Finalmente Anche loro sono un po' No è bellissima Questa scena Mi è piaciuta tanto Fa un po' ridere Perché dopo aver pianto Per 20 minuti Effettivamente è eccellente Ogni tanto c'è bisogno Un attimo Del break Di respiro E racconta appunto Di loro due Cosa fanno nella loconda Fondamentalmente A rubare soldi Occhiali Occhi di vetro Occhi di vetro Qualunque cosa Ai clienti Ma sono un coppia Che è questa Affiatata Insomma Sono carini insieme No effettivamente Sono carini insieme E tra l'altro Conosciamo Eponino Per la prima volta qua Da piccola Da piccolina È veramente fastidiosa Da piccola È anche bruttina Tanto Scusate se lo dico Però dai È un po' cesso Sì Beh Poi tutta Con la colpiettina Tutta cosina Esatto Manca la scena Che piaceva a me Nel libro Ah Della bambola Che lì la fanno Un po' così Proprio accennata Nel libro invece È stata una scena Un po' devastante Per me nel libro È una scena bella Non succede niente di tragico Però sapete che Io mi emoziono anche Sulle scene bella Mina che fa Cosette Quanto è bella Scusate Bella Cioè è veramente bella C'ha questi occhi azzurri È troppo bella Voglio una bambina Bellina No No più che altro Perché è la Cosette adulta Che anche nel libro Non è che io l'amassi particolarmente No Per cui ho questo ricordo Bello di Cosette Bambino La canzone Che viene dopo Che citiamo soltanto Perché dobbiamo fare Un po' Le acculturate Che è questa Che si chiama Addirittura Che si chiama Suddenly È una canzone Che in realtà Non c'era nel musical Londinese Ma che è stata scritta Apposta per il film Perché nel libro Ci sono queste pagine Pagine In cui c'è Jean Valjean Che diciamo Scopre l'amore Per la prima volta Con Cosette E Cosette Appunto con Jean Valjean Per cui I due autori Del libretto musicale Dei miserabili Ha deciso Di scrivere Un'altra canzone Che sarebbe questa In cui appunto Jean Valjean Dice Impresamente Mi sono innamorato Ho scoperto Cosa è l'amore E vi dicendolo È una canzone carina Non aggiunge Non toglie niente Ecco diciamo Mi aspettavo Fosse più emozionante Ti dirò Sai cosa? È come se Non essero sviluppato Il rapporto Nel frattempo Di loro due E quindi Tu lo vedi Che lui Da un momento All'altro Dice Questo è l'amore Della mia vita No? Ma che nel libera Così Lui improvvisamente Quando conosce Cosette È come un genitore Appena quando tu diventi Genitore Immagino Lo so Che tu dici Cacchio Sono innamorato Probabilmente Lui Ha effettivamente Nel libro Ha questa cosa Che lui immediatamente Appena vede Cosette Lei si fida totalmente Di lui Gli prende la mano E vanno insieme Lui sente questa cosa E dice Cacchio Non so che cosa sia Questo amore Che diventa un po' Possessivo Poi più avanti Il senso Che lui deve proteggerla A tutti i costi Questa bambina La canzone Che state sentendo Invece è la canta Russell Crowe Che appunto Fa Javert Che prima L'abbiamo nominato Un po' Di sfuggita A me Non è piaciuto Tantissimo Allora Non è che mi dispiace Lui come attore Oddio Sapete che non mi sta Particolarmente simpatico Però Mi aspettavo un po' Meglio Francamente Questa canzone Alla fine Era importante Perché è lui Che dice Io Jean Van Jean Prima un po' Ti coccherò In qualche maniera Anche perché secondo me In confronto agli altri Non è espressivo Cioè C'è anche il ruolo Che gli impone Quindi una certa rigidità Sicuramente Perché è quello Del poliziotto Ligio al dovere Russell Crowe Pettivamente Avevo letto in giro Che non era proprio il massimo Come Javert Gli diamo un po' Ragione Ecco Sì Scusa Ely So che te Tortellone Vi amare Quando Si passa Da qui Con Jean Van Jean Che salva Cosette Fa un salto In nove anni E diciamo Questo salto Ce lo racconta Gavroche Che è il monello Di Parigi Solo che Non c'è quella canzone Gavroche Noi l'amiamo Comunque Volevamo dirlo È bello Quel bambino Per cui Andiamo alla canzone Che è questa Che è bella Allega Ci piace Che è ambientata Tra gli amici Della BC Che sono Sto gruppetto Di rivoluzionari E che Kent è il mio personaggio Preferito Che mi sembra giusto Citare Che in realtà Non viene nominato Suo nome Fino a Un bel po' avanti Nel film C'è una volta Questa cosa Ho pensato Ma poveretto Ma qualcuno Lo chiami per nome Perché almeno Si capisce chi è E invece Tipo No Alla fine del film C'è uno che gli fa Angiora No E ho capito Ok Adesso abbiamo capito Che si chiama Angiora Ma poveretto Era quello Con i ricci biondi Comunque Nel caso Lo state domandando Che in questa canzone È bellissima Perché Cioè No 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 Il culo Perché Praticamente C'è L'essesso Della canzone Lui che dice Vai Andiamo a combattere Noi Combattiamo Per i vari ideali E c'è Marius Che gli ruba Le parole Della canzone Perché Appena ha incontrato Cosette Si è un po' Innamorata Esatto Allora lui Praticamente Riprende i pezzi Della canzone Di Angiora Che lo guarda Malissimo Tra l'altro Ci aspettavamo Lui adesso Una sediata Sul muso A un certo punto Che cacchio Ti rubi Le mie canzone Mi facciamo Sentire lui che canta Giusto perché È un professionista Mi sembra giusto Per sentire In tutto Lui in tutto Non lo so Però Sicuramente Ha una bella voce No vabbè Canta bene Vabbè Lui canta Broadway Per cui Ci saranno Modio Oltre ad essere Un bel faccino Immagino Sì E insomma Che da una parte è bella Dall'altra è terribile Dall'altra è esatto È atroce Perché È doppia Ne eravamo un po' divise Ma voi Siete pro Marius E Cosette O pro Epponine O pro Epponine Marius È dura Perché nel libro Ti veniva più da tifar Per Cosette Perché Epponine Veniva descritta Già da quando era bambina Che era Stronza Nel libro Non era così chiaro Che lei fosse innamorata Di Marius Fino alla fine Qui invece Si capisce subito È tanto È tanto E per cui Cazzo Ti dispiace Perché lui Fa lì la dichiarazione A Cosette E c'è lei che dice Cacchio però A me queste cose Non le dirà mai Lei dietro al muro Che piange E lei piange Io Una coltellata È stata Perché Quell'attrice lì È bravissima Tra l'altro È bello Quella che fa Il ponine Samantha Bugs Che non si chiami È strabrava Cioè Questi due Si cantano La canzone d'amore E lei è lì Che piange Che le ascolta Piangeremo anche Ci stiamo emozionando E questa continua Canta questa canzone Bellissimo Traduttori italiani On my own Non vuol dire Io sono da sola Scusate Vuol dire Semplicemente Da sola Appunto Così Lei che si immagina Di andare in giro Con Marius E in realtà Poi dice Eh no È soltanto in testa È per questo Che dico Mi dispiace Per ponine E ponine Volevo dirti Confidenza Tra amiche Esatto Ma Marius È occupato Volendo C'è un altro Che è libero Quell'altro Quell'altro Però per me Era schifo Era carino Cioè Voglio dire Dio che lui Non gli fregava un tubo Però sai Potevi provarlo Per me Guarda Anche se Si mostrava davanti Diceva No guarda La madre patria Francia Mi spiace Scusa Devo andare A combattere Per la Francia Mi sa che Non c'è tripa per gatto Che spreco Lo pensai anche Quando ho letto il libro Cosa vuol film Ancora Ma se perché Io leggevo il libro Diceva Chissà che attore Ci ha messo A fare il personale Doveva essere Doveva essere bello Perché l'avano descritto Come il bello del gruppo Cioè il bello Era quello Granter lo chiamava Il mio dio Apollo Addirittura Il Granter è quello Che trinca Che qua non si vede tanto Però Il libro si vedeva di più Infatti litigavano Tutto il tempo Però vabbè Stavamo parlando di Eponino Sotto la pioggia Che lei Si impagna tutta Ci muore Ma la scena in cui muore Sotto la pioggia È giù Che bella Che bella Che lei Canta Tra le braccia Di Marius Che non si riesce Se piange Se pioggia Eh esatto Cioè lei finalmente Tra le braccia Di Marius Ma lui Ma sta morendo Lui fa finta Lui fa finta In un certo senso Cioè gli dà l'ultima speranza E sta lì Con lei Sto qua però Dopo me l'hai arrivato Da Cosette Sì anche lui In realtà è probabilmente Disperato Perché non so Se ci torna La Cosette Questa è bella Che la cantano Tutti in corale Ah sì Ah è anche una Delle altre più famose Penso questa Che Cioè è un momento In cui Insomma si snoda Tutta un po' la storia Perché questi due Stampe Già ma già sta portando Via sua figlia Gli amici della BC Stanno organizzando Sta mezza rivoluzione Durante il finale Di Lamarck Javert Dice Vi faccio il culo Sti ragazzini E invece c'è Marius Che lì Che è disperato Perché ha perso Cosette Cosette E Pondin Che pensa solo a Marius Ognuno canta la sua Facciamo un salto Un pochino in avanti Perché Qua siamo già Durante Diciamo La sedia Le barricate Jean Vanjean Che capisce Che Cosette Non è più una bambina Che è innamorata No E quanta questa cazzone Guardando Marius Che dorme Scena Dai Possiamo dire La scena è un po' pallosa Però Cazzo Cioè Hugh Jackman È talmente bravo In questa canzone Significato Di per sé Cioè come lui la rende Cioè semplicemente A testare la canzone E fa che lui turni a casa Sonne salvo Che non gli succeda niente Vi dicendo Vabbè Ok Accettato In un certo senso Che la figlia Sia cresciuta È Deb Cioè come la canta Con questa emozione Mentre guarda Questo ragazzino Che dorme Che fondamentalmente È il ragazzino Che gli porta via la figlia È però che lui qua dice Che è come se fossi Ah perché è vero Che dopo dice così Che bello Che ha perso lì Che dice Non ho mai avuto Un figlio maschio È come se fosse Un figlio mio Cioè quindi lo accetta Ed è bellissimo E noi adesso ci pensiamo Come per dire Vabbè Se la fai felice Probabilmente Eh io sono felice Ma che bello Ma che uomo meraviglioso Non è Già mangiare E dice anche Cioè A questo punto Prendi me Ammazza me È Addirittura Addirittura Dice Sì Addio Cioè praticamente Piuttosto ammazza me Che è questo qua Che è lui Tutto prima Volendo L'avrebbe strangolato Per le sue mani E invece Improvsamente dice No Se mia figlia è felice Prendi me Piuttosto che Canzone dopo Non è una canzone Ma infatti Ve lo facciamo sentire Giusto un pezzo Giusto per sottolineare La tragicità Dell'evento Cioè quando arrivano Tutti i soldati E praticamente Questi quali amici Della bici Si rendono conto Che ormai Sono da soli E li fanno fuori tutti Quanti Prima Prima Gavroche Partendoci dalla Cosa E non siamo stati male E questo è il pezzo Che io non posso sentire Perché succede Una cosa che Ah Quando Stanno loro due lì È orribile È orribile Allora Il romanzo era meglio Questa scena Vi faccio uno spoiler Massi tanto Se non avete letto il romanzo Non tu ormai Ah beh No vi faccio lo spoiler Del romanzo Lo raccontavo ieri sera Ma lo racconto a tutti Lo dico a tutti Nel libro La scena in cui muore In un giornale È un pochino più bella Perché praticamente Per la trentesima volta La dirò Lui è lì da solo Arrivano i soldati E lui Cioè È coraggioso Sapere addirittura La casacca E dice Vabbè Sparatemi Per la Francia Questo e l'altro E come avevo detto Prima lui Intigava sempre Con questo suo amico Che era Sto Grand Terre Che era quello Che beveva sempre Non gli dava mai ascolto Che in questo momento Nel libro Si alza Lui era imboscato Da qualche parte Perché era ubriaco Ha dormito Praticamente Tutta diciamo Questa rivoluzione Si alza in piedi Inizia a dare Viva la rivoluzione Viva la Francia Va vicino A Dengioran Gli prende la mano E gli dice Permetti Questi due si danno la mano Sorridano E poi gli seccano Per cui Era bellissimo Ma anche nel libro È molto bello Perché ci sono questi due Che si guardano E dopo lui Vole all'indietro Nella finestra Con la bandiera Comunque Si Quando cazzo Lui alza la bandiera E poi gli sparano No Cazzo È potente Si Ha detto di aspettare Lui si è messo avanti Ha fatto avanti E si È potente Cazzo Neanche di fronte alla morte Lui taccazza la bandiera Bellissimo No Il personaggio Mi è piaciuto Come l'hanno reso Non l'avrei mai detto Invece Cioè Non è che non l'avrei mai detto Però non era semplicissimo Invece mi è piaciuto La canzone che sentite Invece è una canzone Che a me non è piaciuta Cioè La canzone è bella Ma Ah È preziosimo In cui Cioè Javert Non dovrebbe Rediversi Si Cioè Si redime Nel senso Che capisce Anche lì Che ha sbagliato Tutta la sua esistenza E In teoria C'è Che Jean Bajan Non era poi Così cattivo Così cattivo Come lui pensava E che si può diventare buoni Anche se si era criminali E lui dovrebbe avere Un po' di confusione mentale Essere un po' Interdetto dal momento Eppure Eppure non sembra Adatto E ormai Rastro Non ha reso tantissimo Questo tormento interiore Di Javert Bocciato Rastro A casa La prossima Ha fatto le gioia Dei nostri Amiglietti Esatto E soprattutto Dei nostri Vulviculari Dotti lacrimali Cioè Dio una cosa Che io Questo è di Redmayne Che vabbè Per me è conosciuto Però non so in Italia Quanto sia conosciuto Non è che non mi piaceva Fino a questo momento Però dicevo Sì ok Bravino Fare Marius Per carità No In questa scena Si è Avviamente Si è Cioè Il convolgimento Che lui ha Mentre canta questa canzone Che è Teachers Attendee Tables Cioè Lui si trova lì Nella solita Dove si ritrovava con gli amici Vuoto Ovviamente perché sono tutti morti E lui è lì da solo E canta questa canzone In lacrime Sudato Tutto bagnato Poverino Tutto Con l'embraccino E Dio Che lui si sente in colpa Di essere sopravvissuto Ai suoi amici Dice perché Voi siete tutti morti Mentre io Sono ancora vivo Esatto Che poi l'ha salvato L'ha salvato Jean Van Jean Esatto Solo che vabbè Jean Van Jean Ovviamente È riuscito a salvare lui Perché gli avevano sparato E l'ha tirato via Dalla barricchata No Gli altri invece Sano imboscati E poi lui comunque Voleva salvare lui Perché E ovviamente L'ha finanziato Dalla figlia Madonna Eh sì No è bella Cioè lui piange Proprio tanto No lui piange Mentre canta la canzone Ragazzi Cioè io Con sta telecamera Sempre vicinissima al viso Lui che diventa Rosso Peperone No proprio Tipo me quando piango Più o meno Eh no È bellissima C'è da dire Una cosa bellissima Che hai detto tu Cosa succede Poco dopo Che è finita sta canzone Una scena che Ovviamente Ci saremo risparmiate Ecco Cosette Diciamo Cerca di consolarlo A modo suo Dicendogli Vabbè Non ti preoccupare Saremo insieme Per sempre Insomma Non ti preoccupare Ci siamo io e te Eee Ci amiamo con le mente Ciao Ciao Cosette Stai scherzando Vero Questo è disperato Gli hanno ammazzato Gli hanno ammazzato Gli amici C'ha un senso Di colpa Che se lo mangia Vivo praticamente Esatto I suoi amici Gli hanno fucilati 30 secondi prima Perché no 30 giorni prima Cerca di capirlo Un attimino La sua famiglia La sua famiglia E lei pensa solamente A fare la La brava mogliezzina Mario Sì Scusa No Dammi un bacino Dio mio Finiamo Finiamo Concludiamo Con questa canzone Eh Che è peggio Cioè forse questa Questa Non so Forse è peggio No non lo so Se è la peggio Guarda tra tutte Qui è Jean Vanjean Che dopo aver confessato Diciamo A Marius Chi è lui in realtà Cioè un ex carcerato Dice io me ne vado Perché non voglio disonorare Mia figlia Cioè lui abbandona Sua figlia Per salvarla Per salvarla No diciamo Prima si sarebbe fatto Ammazzare No Per la sua gioia Ma l'abbandona Marius Scopre questa cosa Tramite dei nardievi Dicendo E porta Cosette Da lui Che è in convento Appunto sta morendo E lui nel momento Della modern Vede Fantin E Che poi nella mia testa Loro sono Cioè Cioè In un certo senso Si sono trovati No Sì si sono trovati Perché erano due animi disperati Eh Cioè Tragicisti Cioè tu ti dico Una vita tragica Il problema è che lui Poverino riesce un po' A riscattarsi Sì lei Perché Rien comunque va a salvare Cosette Dona dell'amore a questa bambina Le salva la vita Salva il suo fidanzato E dicendo Invece Fantin Ha avuto solo disgrazie Infatti nel libro C'era questa scena In cui diceva quella cosa Bellissima A Cosette Cioè diceva Tua madre si chiama Fantin E lei Tu hai avuto in bene Tutto quello che lei ha avuto in male Che per Tranquillizzarle Insomma Si sta morendo Però tranquilli Non vi preoccupate Esatto Io muoio Però finalmente Così almeno Si libererà questa vita All'olore Che lui ha avuto Tutta la sua esistenza Ma lei questa pezza è bella Quando gliela canta Quando dice No papà non morire Non ti preoccupare Esatto È troppo presto per morire Beh Quando pure Fantin Lo prende per mano Lo carezza Esatto Il fantasma Il fantasma di Fantin Si sta sentendo male Esatto Quando gli dice Hai cresciuto mia figlia È la cosa migliore Che ho mai avuto Oddio Perché Perché è bello Quando gli dice così Che lo guarda E lui con questa voce rotta Gli dice It's the best thing Ma Quando si abbracciano Loro Perché lui è morto E lui va Verso questo Tipo al di là In cui dice Tutti saremo liberi Finalmente E ci sarà un futuro migliore E incontra Diciamo tutti i personaggi Che sono morti Esatto Che cantano una delle canzoni Quella che cantavano Durante anche la Diciamo Un momento della rivoluzione No Che adesso Vi faremo sentire Che è questa E noi finiamo la recensione Cioè Devo sentire questa Che è Bello quel pezzo Finalmente Si Il pezzo finale Ci vuol dire che io Cioè Ero un po' Con Tipo pugno nello stomaco E col cuore Mi dice Bum 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 Perché non sai Se essere triste O contenta Perché è vero Che finisce bene Però Però insomma Ci sono morti Tanti personaggi E poi c'è Jean Van Jean Che è Che fa una bella morte Per carità Cioè Lì con la sua Bambina E così Solo che Cioè C'è un po' Questo senso Di computer Dice Ok è morto Cioè È stato felice Però Cazzo Ha patito anche tanto Vabbè Però dai Però Andando via Tranquillo Beh Indefinitivamente Adesso siete molto contenti Ci è piaciuto molto È veramente bellissimo Anche nei confronti del romanzo È veramente bellissimo Io questo E per cui Andate a vederlo Andate a vederlo Cantano Sappiatelo per tre ore Per cui Sappiatevi regolare Almeno voi Non uscite a metà Del primo tempo Come hanno fatto in tanti Che favore Che è una cosa Veramente orribile Non si può fare E E non portate i bambini Non portate i bambini Portate i fazzoletti Sì Tanti Fatelo voi almeno Tantissimi Perché vi servirà Io Ti vorrei vedere Lo ti prego Porca miseria Però spingiamo Lui Cacchio Andate subito a rivederlo Guarda Veramente Non sto scherzando Così faccio la seconda tornata di lacrime Quelle che non sono riuscita a piangere ieri sera A un certo punto Perché Le ho finite Allora Noi vi salutiamo Adesso andiamo a disperarci All'angoletto Non andatelo a vedere di sera Perché sennò non dormite Quando tornate a casa Ve lo dico io Perché tornate a casa Un po' provati Temo Da questa esperienza Dove dire qualcosa Poi che vi fa Eh guardatemi un film da ridere Per favore Perché sennò Non ce la fate Come abbiamo fatto noi Ciao Buona visione